Sì, ho cambiato look finalmente. Sono più fresca, giovane, non lo so. Mi sento rinnovata al che va benissimo. Hello, bentornati o benvenuti sul mio canale amici. La scorsa volta abbiamo iniziato a parlare di Vittorio Gregotti, ma del Vittorio Gregotti teorico. E proprio per rompere il ghiaccio abbiamo parlato appunto di quello che, proprio da teorico, pensa della teoria dell'architettura. Insomma è stata una sorta di esperienza metafisica. Quello che vorrei fare oggi è concludere questo discorso sverandovi il pensiero di Gregotti sempre a proposito della teoria, ma la teoria del moderno. Perciò mettetevi comodi perché seguirà un'altra suppostina di quelle super accademiche che piacciono a me. Tuttavia prima di iniziare devo ricordarvi che qui sotto c'è un pulsantino rosso, cliccateci su per iscrivervi al mio canale e non dimenticate di attivare la campanella così da rimanere sempre aggiornati sull'uscita di tutti i video futuri. Seguitemi anche su Facebook e Instagram dove potremo interagire e decidere insieme gli argomenti per i prossimi video. E in più non perdetevi le mie live e le letture condivise e commentate che facciamo sul sito Viola. Occasioni settimanali di scambio di opinioni imperdibili. Perciò vorrete seguirmi ovunque, mi raccomando. Grazie. Inutile dirvi che questo video avrà pieno senso solo se avete già ascoltato il primo. E se ancora non lo avete fatto, mettete in pausa questo video, cliccate qui su e recuperate la prima parte. Poi dopo potete tornare qui. Fatto? Bene, possiamo continuare. Come abbiamo visto la volta scorsa, la teoria dell'architettura, secondo Vittorio Gregotti, si fonda sul dialogo tra la tradizione, i fondamenti e l'esigenza di risolvere problemi attuali. Ma quando si parla di progetto moderno e di teoria del progetto moderno, l'architetto ci dice che la storiografia ha catalogato quest'ultima sulla storia dell'architettura e sulla più generale teoria del progetto. Accorciando, se non proprio sovrapponendo, la distanza che c'è tra storia e appunto teoria. Voi direte, vabbè, allora non è cambiato nulla, ripeterai le stesse cose del primo video, il risultato sarà sempre lo stesso. Ma in realtà il fatto di non saper più riconoscere la differenza tra le due cose è un problema. Perché snatura la definizione stessa di teoria che Gregotti ci ha dato fino a questo momento. Ma partiamo dal principio, innanzitutto inquadriamo la modernità. Anzi, facciamola inquadrare proprio a Gregotti. Sì, perché quelli che vi sto portando in questi due video dovete sapere che sono effettivamente i suoi insegnamenti. Quando aggiungo qualcosa di mio, ve lo dico. A questo proposito, Hobsbaw propone una divisione tra il periodo delle rivoluzioni, quindi dal 1789 al 1848, e il periodo del capitalismo industriale. Specificando che durante il secondo c'è una sorta di esaltazione della relazione che c'è tra ragione e progresso. In ogni caso, in tutto questo periodo, l'arte si è legata a una sorta di storicismo eclettico, ma comunque vive di piccoli movimenti minoritari che rappresentano ovviamente solamente la borghesia industriale. E siamo anche arrivati ad un momento storico in cui la riflessione sulle belle arti si fraziona per diventare più analitica. Gli esperti infatti tirano fuori diversi settori sulla cui base interpretare e appunto criticare l'arte. Si parla di estetica, di critica poetica, di scienza dell'arte e addirittura e soprattutto di storiografia. Tutte branche estremamente connesse, ma ognuna con il proprio scopo e ognuna con i propri strumenti interpretativi. Tutte però fondamentali riferimenti per la teoria dell'arte e quindi anche ovviamente per la teoria dell'architettura. Alla luce di questa nuova modalità, di questo nuovo approccio alla teoria delle discipline artistiche, capite bene che il trattato, che fino ad allora è stato l'unico strumento dell'analisi delle belle arti, cade in crisi, diviene uno strumento obsoleto, superato direi. Piranesi per esempio è stato il primo grande artista a rinnegare il trattato come chiave interpretativa dell'arte. Ma altri grandi dell'epoca, come per esempio Boullet o Ledoux, ancora negli anni 80 del 1700, rimangono legati al vecchio modo di fare e di intendere l'arte e l'architettura. In questi anni, quindi fine 700, assistiamo a un fenomeno abbastanza curioso, il ritorno al classicismo. E questa cosa accade maggiormente negli Stati Uniti, dove Jefferson e la Torp iniziano a prediligere le forme classiche europee alle influenze coloniali che si erano via via affermate negli States. E il perché di questo revival è abbastanza paradossale. Infatti si ritorna indietro nel tempo per favorire l'innovazione. E voi direte che? E sì amici perché il punto è che lo stile neoclassico si prestava alla perfezione per la declinazione dei vari materiali nuovi quali l'acciaio, il ferro, la ghisa. E questo perché le forme classiche derivate dalla più pura geometria denotavano una incredibile pulizia e semplificazione della costruzione, evidenziando quella che era una razionalità tecnica e scientifica. Cosa che appunto ben si prestava alla costruzione di strutture ben calcolate che erano ormai tendenza in questo periodo storico. Tuttavia questo movimento si affiancava a quello dell'idealismo tedesco, che pur partendo da basi analogamente classiche, condannava di fatto l'idea di arte puramente hegeliana, ovvero l'idea che si trattasse di una disciplina che stava ibridamente nel mezzo tra la sensibilità immediata, quindi quello che puoi toccare, verificare, e il pensiero ideale. Quindi tra sensibilità reale e spirito. Oggi pure la filosofia ci mettiamo in mezzo. L'idealismo tedesco vedeva infatti l'arte come autonoma creatività soggettiva, in maniera puramente romantica possiamo dire, seppur con un gusto vagamente classico. Ho dimenticato di accendere la A di architettura, facciamolo subito. Meglio. Ma eccoci arrivare al XIX secolo, quando finalmente, nel campo della teoria dell'architettura, la storia del trattato, se la sono messa via. Per lasciar posto a un grande ritorno, ovvero il ritorno del manuale. Cosa è un manuale? È un compendio di nozioni necessarie a capire l'importanza delle tipologie, soprattutto nella sfera pubblica. E perché nella sfera pubblica direte voi? Beh, perché siamo nell'Ottocento. E cosa accade in questo secolo? Sì, esatto, viene rifondata completamente l'idea di città. Con annessa riqualificazione di molte città, allora, considerate le più grandi del mondo. Naturalmente, a queste nozioni, che erano giustamente più teoriche, venivano affiancati molti approfondimenti sui materiali e sulle tecniche. E proprio su questo razionalismo neoclassico che abbiamo citato prima. Ovvero, veniva illustrato un nuovo modo per trasformare questi materiali in costruzioni ed esaltarli al massimo. E grazie all'avvento di questi manuali ci furono anche dei cambiamenti sociali, perché lo studio di questi volumi agevolò anche l'affermazione della figura dell'architetto come figura professionale. Tuttavia, in Inghilterra, possiamo dire che la faccienda era un pochettino diversa. I nostri amici britannici erano infatti molto più per il neogotico. E questo perché architetti come le Duke ritenevano che fosse il gotico il miglior campo da gioco per giocare appunto con i nuovi materiali, quali il ferro e la ghisa. E questo perché tutti quei virtuosismi del gotico proiettati verso l'alto, verso l'infinito e ospre, erano, secondo questa gente, il perfetto esercizio per questa tecnica. Dalla serie, cioè, se legge così, figuriamoci in altro modo. Altro fatto che risultava anche più facile e quindi più appagante utilizzare quei materiali per ottenere le particolari e complesse forme tipiche appunto dello stile gotico. Ma questo è anche il periodo delle grandi esposizioni universali, tra cui appunto quella di Londra. Un enorme pretesto per portare avanti questo dibattito sulla tecnologia e sulla tecnologia all'interno della teoria dell'architettura. Inizia infatti a diffondersi l'idea che il progetto industriale possa diventare un oggetto autonomo e un fatto d'arte. Diciamo che è in questo momento storico che il design industriale inizia a muovere i primi passi in un certo senso. Ma questa idea si trova in netta contraposizione con quella di William Morris, artista e teorico dell'arte, il quale rifiuta la cultura industriale perché, a suo dire, corrompe le capacità creative della comunità. Facilitando ovviamente processo e produzione ma causando una sorta di assoppimento della mente creativa umana. E questa dicotomia, questa rivalità ideologica rimarrà fino all'avvento dell'art nouveau che inizierà a stabilire quell'unità disciplinare che verrà poi definitivamente sancita nei primi del novecento grazie al Bauhaus. Tuttavia la tendenza ad unificare tecnologie fatti d'arte e architettura continua ad esistere. Pensate che in questi anni, proprio in occasione di una delle esposizioni universali, pretesti perfetti per questi grandiosi esercizi di stile, fu edificata la Torre Eiffel. Una grande opera ingegneristica, certo, ma anche architettonica e oserei dire pasaggistica. Dato che modificò completamente, dapprima si pensò solo temporaneamente ma poi alla fine è diventato in maniera permanente, l'assetto urbano e lo skyline della città di Parigi. Ma la Torre Eiffel è solamente uno degli esempi di queste grandi e ambiziosi costruzioni, perché di grandi opere come questa se ne costruirono molteplici e tutte mirate ad unire l'ingegneria con l'architettura. Infatti da questo momento in poi le due discipline iniziano ad influenzarsi e spesso a convergere, soprattutto dal momento in cui si iniziò a sperimentare con materiali come il cemento armato. E dal punto di vista urbanistico le città iniziano a crescere in estensione e inizia anche a cambiare il rapporto che i centri urbani hanno con la campagna. Per le istituzioni infatti per la prima volta nel corso della storia si pone il grande problema delle infrastrutture, dei collegamenti e del degrado delle periferie, da ora molto più vicine e visibili grazie appunto al nuovo modo di vivere la città che si stava iniziando a diffondere. Perciò l'esigenza maggiore in questo periodo è quella di estendere la preparazione dei progettisti allargando appunto la scala. Difatti non si parla più solamente di teoria dell'architettura ma anche di teoria urbanistica. Ed ecco quindi inizia a raffioccare le teorie urbanistiche. Ebenezer Howard in Inghilterra inizia a ipotizzare la cosiddetta città giardino, un modello di pianificazione urbanistica in cui i quartieri e gli isolati sono circondati da cinture verdi che contengono delle aree assolutamente proporzionate tra loro di residenze, industrie e campi di agricoltura. Un'idea che riscosse comunque un buon successo dato che fu utilizzata come base per progettare diversi centri urbani nella realtà come per esempio la nostra italianissima Milano Marittima nata sì dall'ingegno di Giuseppe Palanti ma sfruttando appunto la teoria di Howard. Ma questa tendenza ad ingrandire la scala di progetto naturalmente diviene esigenza di tutto il mondo non solo degli inglesi. In Francia per esempio troviamo Garnier che si diletta in una città ideale pensata per 35.000 abitanti di cui progetta sia la scala urbanistica appunto che poi la scala architettonica. E anche negli Stati Uniti ben presto inizia il dibattito sull'urbanistica e sulle nuove idee di città, anzi lì più che mai. In particolare citerei la scuola di Chicago e il suo approccio empirico allo studio dell'urbanistica fatto anche dal punto di vista sociologico. Sempre al di là dell'oceano atlantico in questo periodo si affermano due concetti fondamentali, quello del landscape e quello delle comuni, dei commons. Questi concetti dovete capire bene che sono molto innovativi per l'epoca e soprattutto ben lontani da quella che era la cultura inglese del XVII secolo. Praticamente inizia quello che è il dibattito dell'impatto della mano dell'uomo a scala paesaggistica dove con paesaggio, landscape appunto, non si intende più la vista, quella pittorica, ma un insieme di caratteristiche che compongono un territorio a livello concettuale e non più meramente visivo. Insomma l'architettura non è più quella branca dell'arte che appunto si sviluppa analogamente all'arte ma semplicemente in tre dimensioni. No, l'architettura inizia a diventare una risposta concreta ad un bisogno concreto. In poche parole possiamo dire che l'architettura da questi anni in poi diventa un binomio fatto tra un fine e il mezzo per arrivare a quel fine, dove il fine comunque bene o male rimane sempre lo stesso che quello abitativo della vivibilità e a cambiare è sempre il mezzo. E tra l'altro come abbiamo ampiamente argomentato l'architettura non è più una semplice disciplina, bensì nel XIX secolo diventa un insieme di tante discipline che hanno diversi metodi ed ambiti che poi però convergono in un'unica grande branca dell'arte che appunto è quella dell'architettura. Praticamente la teoria del progetto si frantuma in tante piccole teorie parziali che poi tutte insieme danno vita alla teoria dell'architettura. C'è da dire che tutta questa mutazione del concetto di teoria di architettura avvenne anche comunque nell'ambito della teoria dell'arte. Finalmente infatti all'indomani della guerra l'arte viene messa in discussione perché diventi un modo per comunicare la realtà, la società e non più semplicemente un vezzo meramente celebrativo o decorativo. E certamente oltre che agli avvenimenti storici questa messa in discussione è da imputare anche alle scoperte che si stavano facendo nell'ambito della psicologia grazie a Sigmund Freud e nell'ambito della relatività grazie ad Einstein. Queste scoperte infatti iniziano a mettere sotto esame proprio l'esistenza umana favorendo l'introspezione e la ricerca spirituale. Non a caso proprio in questo periodo Kandinsky pubblicherà della spiritualità nell'arte specialmente nella pittura in cui appunto porta avanti proprio questo tipo di dibattito sul rapporto tra arte e introspezione spirituale. Un testo che influenzerà sia gli artisti che gli architetti. Lo stesso Frank Lloyd Wright opererà proprio in questi anni guidato da questo stesso animo e dagli stessi principi. Altro aspetto importantissimo che inizia a fare capolino in questi anni nell'ambito della teoria dell'architettura ma anche dell'arte è il manifesto come per esempio quello datato a 1914 bellissimo del futurismo firmato da Marinetti, Boccioni e Sant'Elia. E a proposito amici a Sant'Elia abbiamo dedicato un intero video di cui vado particolarmente fiera che vi linko qui su se siete curiosi potete approfondirlo. Credetemi che ne vale la pena. Quindi dicevamo nascono i manifesti, questi scritti che diventano fondamentali per la teoria artistica dell'architettura. Proprio perché hanno la funzione di esprimere idee, idee di un gruppo di persone ovviamente, di regolamentarle e poi di confrontarle con l'esito delle loro stesse opere per renderli appunto coerenti. E questo poteva sembrare un modo di fare forse un po' disorganizzato dato che era diviso per piccoli gruppi ma tutto sommato dopo la guerra tutti questi manifesti redatti tra i vari gruppi di intellettuali del tempo si raccolsero tutti sotto le avanguardie artistiche. E dal punto di vista teoretico i manifesti sono molto utili, oserei dire fondamentali poiché rappresentano le giuste chiave interpretative e giusti fondamenti delle azioni artistiche architettoniche e i singoli maestri. E capite bene che alla luce di tutti i cambiamenti sociologici del mondo artistico a cavallo tra 800 e 900 avere uno strumento utile di decodifica poteva essere effettivamente la svolta. Ed eccoci così arrivare ad un momento focale dello sviluppo della teoria dell'arte e dell'architettura che mai come in questo momento sono state così vicine da essere quasi la stessa cosa. Siamo infatti nel 1919 quando indovinate un po' si inizia ad operare il Bauhaus, una scuola il cui fine ultimo era semplicemente quello della costruzione. Fine raggiunto unendo tutte le discipline artistiche che in questo preciso momento in questo preciso luogo non sono più discipline distinte ma concorrono in ugual modo in ugual misura a creare l'intero immaginario intellettuale e artistico appunto. E sono anche gli anni in cui nascono e si sviluppano le riviste di architettura portatrici sane di diversi manifesti e veicoli di queste grandi contaminazioni disciplinari tra le varie arti. E poi ovviamente sono i suoi anni, sì proprio i suoi, del nostro amato e allo stesso tempo odiato Le Corbusier, il poeta teorico dell'architettura, colui che ha scritto quello che poi di fatto è il grande manifesto dell'architettura moderna. Quasi un vero e proprio trattato si può dire sul modernismo. E se mi seguite sul sito Viola lo saprete molto bene, dato che ogni giorno leggiamo insieme e commentiamo un pezzettino di questo testo di cui sto parlando, ovvero verso un'architettura di Le Corbusier. Inutile dirvi che se avete voglia io vi invito caldamente a partecipare a questa oretta di lettura insieme, un tempo incredibilmente stimolante e costruttivo in cui impariamo proprio le modalità in cui Le Corbusier rinnega gli stili architettonici in favore del processo e della funzione dell'architettura, rifiutandosi di diventare un nuovo decoratore ed un inutile virtuoso della disciplina e dedicandosi solamente al funzionamento e al rendimento di quella che definisce appunto la macchina dell'abitare. E citare Le Corbusier, sia pure nel bene o nel male, è a dir poco obbligatorio se parliamo di teoria dell'architettura. E se avete studiato architettura comprenderete benissimo il perché, è un innovatore ragazzi. E se questo perché non dovesse bastarvi lasciatevi ricordare che fu proprio lui nel 1928 insieme a Delende Mandro e Siegfried Gideon a fondare il CIAM, il congresso internazionale per l'architettura moderna, con la cui carta d'Atene nel 1933 furono messi nero su bianco i fondamenti dell'architettura e dell'urbanistica moderna, enunciando i mezzi utili a migliorare la condizione dell'esistenza dell'uomo all'interno della città moderna, la culla, secondo i membri del CIAM, dello svolgere armonioso delle quattro funzioni primarie della vita, abitare, lavorare, divertirsi e spostarsi. Praticamente tutto ciò che è avvenuto dopo questo momento, in campo architettonico ovviamente, è nato proprio da questo documento. E beh, scusatemi se è poco insomma. Poi, come spesso succede, ognuno dei membri del CIAM, esaltato da questo potere intellettuale guadagnatosi, ha creato delle proprie personali visioni della teoria dell'architettura. Come per esempio Hans Meyer, all'epoca direttore del Bauhaus, che firma appunto un altro manifesto piuttosto radicale, il manifesto della dittatura della macchina del gruppo ABC. C'è da dire che il Bauhaus era tipicamente, rinomatamente, il luogo di nascita di grandi focolai culturali, che spesso rappresentavano delle vere e proprie minacce dal punto di vista politico. Infatti, vi ricordo che il Bauhaus aveva vita abbastanza breve, relativamente breve, perché infatti nel 1933 i nazisti, prima che si scatenasse un patatrack, chiusero baracche e burattini e tanti saluti al Bauhaus e ciao. Naturalmente la prima guerra mondiale livellò un pochino di cose e dagli anni 30 le avanguardie artistiche si affievolirono per lasciar brillare correnti artistiche e architettoniche decisamente più nazionalpopolari, che potessero raggiungere tutti raccogliendo appunto più consensi, proprio come l'idea politica che si stava cercando di piantare e far germogliare un po' in tutta Europa. E a questo punto Gregotti ci racconta degli anni 60, facendo un piccolo salto, anni in cui il tema del pensiero negativo e della crisi della ragione assumono una certa centralità. La politica si evolve e così la teoria dell'architettura. Nasce l'espressionismo, un movimento incredibilmente ambiguo che raccoglieva sotto la sua ala ogni scuola di pensiero, producendo una quantità incredibile di esiti completamente differenti. E sotto questa ala nacque anche quel bel mix tra razionalismo e monumentalismo tipico anche dell'architettura fascista, che talvolta assumeva anche aspetti un po' più retorici, come per esempio ci ha insegnato il buon Piacentini. Sì, parleremo di lui prima o poi, ve lo prometto. E proprio il razionalismo, seppur declinato in maniere un pochino diverse, si diffuse un po' ovunque in tutta Europa, ostacolato solamente dai simpatizzanti di Hegel e Nietzsche, che erano ancora per l'esaltazione del pensiero creativo non costretto da alcuna ideologia, ma aiutato da un accademismo più eclettico e decisamente meno rigido possiamo dire. I critici più moderati del modernismo, ma ugualmente convinti della sua inadattabilità alla teoria architettonica, come era Gropius per esempio, si trasferirono a questo punto negli Stati Uniti, in America, dove l'approccio era decisamente più empirico e meno indottrinato dal pensiero modernista. Insomma amici, in questa parte del discorso il buon Vittorio Gregotti ci insegna come l'epoca moderna sia stata in realtà decisiva per lo sviluppo della teoria architettonica così come la intendiamo noi oggi. E soprattutto ci fa notare come teoria intesa come regole ed esempi e l'esercizio convergano sempre di più, quasi sovrapponendosi e divenendo necessari l'uno per l'altra. Ed eccoci quindi alla conclusione di questo discorso amici. Io personalmente credo che la lezione di Gregotti su cosa sia e come si sia evoluta la teoria dell'architettura sia fondamentale per capire la teoria stessa e per poi riuscire ad applicarla al meglio all'interno del progetto architettonico. Ovviamente il discorso poteva continuare ed è decisamente più complesso di così, ma sono certa che avremo nuove occasioni per parlarne e approfondire il pensiero di questo grande architetto, ma soprattutto grande studioso e teorico dell'architettura qual'era Vittorio Gregotti. Vi prometto inoltre che prima o poi arriverà anche un supposto di architettura dedicato a lui come progettista. Abbiate fede e con calma parleremo di tutto, ve lo prometto. Per oggi però mi fermo qui. Spero che questi due video siano stati istruttivi e siano stati delle fonti preziose per il vostro studio e il vostro lavoro e che comunque un pochino vi abbiano tenuto compagnia. Se così è stato, vi invito a lasciarmi un like e a continuare a supportare il mio lavoro iscrivendovi a questo canale, seguendomi sui social e dando un'occhiata al merchandising che troverete nel link in descrizione. Io come al solito vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao! 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 Ciao!